Nel dibattito pubblico c'è grande attenzione all'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare del gas e, corregato a questo, del petrolio. Però spesso c'è una strana commistione, come se si pensasse che l'aumento dei prezzi dell'energia è dovuto alla transizione ecologica. In realtà non è affatto così. Non sono costi delle, come dire, delle rinnovabili ad essere aumentati, sono il costo dei combustibili fossili. Questo dovrebbe darci una spinta ulteriore a investire sempre di più sulle rinnovabili, perché da un lato hanno un ciclo che permette di dare stabilità dei prezzi dell'energia, oltre a tutti i vantaggi da un punto di vista ambientale, ecologico, che sono fondamentali per riuscire a fermare il riscaldamento globale che, anche se facciamo finta di non saperlo, mette davvero a rischio la vita sul nostro pianeta. Quindi abbiamo sia un interesse economico che un dovere morale di agire nella transizione ecologica per passare ai rinnovabili in maniera sempre più rapida, tenendo conto anche dei costi sempre più ingenti che abbiamo nell'utilizzo delle risorse energetiche fossili. Grazie a tutti.